Mark Mann, non vi perdete un secondo? Allora, lì c'è uno che ha 40 anni. Chi ho? E dagliela a Mario, non saprei. Ma c'è uno in mezzo troppo mitico, non ha dato una bastonata, ecco, la prima messa. Sì, è vero, quello è grande. Eh? È grande, eh? Sì, è vero. Applausi per Fibra. No, cosa ha tolto la macchina? Se riguja. Quattro me.